Oddio l'ardominali Oh, oh, ci si vede il suato Ma è mai? Ecco, sì, oh Non mi guardare la faccia Non ci posso, sono un grassato Provavo stumo e andava bene Qui c'è qualcosa No, sì Il tuo cervello C'è qualcosa No, t'ammo temata, io non prenderò mai Madonna Eh, io c'è nudo allora Ah, tu dovevi cosare Il pispolo No Già Dovevi cascare di soli Posso fare anche da qui No, perché non puoi da lì Perché? Perché c'è un muro Ah, c'è un muro, quindi basta Ce l'ho fatta Sono il campione International continentale Sei incontinente Ma, ma, ma che cazzo mi fai? Azzardati Non ci lo Non ci lo va Non so provare Per comprare No No Sì No Sì No Sì Devi riportare una Due le ose Che c'è qualcosa Ma lì ci riesci da lì No, io non ci riesco Non ci riesco E Gianni He Oh Eeeh Oh Eeeh I Nessi Si Si Io uscivo a passo indietro come l'esorcista come il fatto a rivoltarsi to offer you the amber jewel open the pot for me via soffro l'appendicite vai all'ospedale doniamo via Anna ma sembrano oh ya cazzo sono al raggio oddio le chiavi del garage garage lì questo è qui da nessuno mi sono scordato il codice fine guarda che mi tocca far per aprire il garage il colesterolo alto si va aspetta io sono un vandalo la spacco dov'è 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 vandalo è ma si può prendere no perchè c'è il nothing selected un accidente il nothing selected speriamo di schianti la faccia nothing selected aspetta è una scena lesbica ma cosa ci vedi sei una modigliani non si apisce una sega modigliani si fanno bene salumi si di qua ora vero di qua vero porca di quella madonna vuoi andare indietro o vuoi fare il mona il genitore il genitore se ne è in tento ma cos'è sto telefono porco dio no devi andare di là e muore si muore o me ma questo è quello dei giochi si e una volta ci ha presente l'assenza anche io fare il bug si provo? non ci ha voluto no perchè mi c'è voluto un sacco di tempo ma è che ci vuole un sacco di tempo in a culo e appunto si prova o no? no io non so se se lo c'entrano prima o tu mi dai? un bacio in bocca vai meno male davvero sbagliato un po' stampati ma lo c'entrano oh lo c'entrano davvero dio io voglio gli occhi dammi gli occhi mi servano soncello ci vedo più dio ma che arco ha? doniamo un palmone è un palco invece un arco cosa cazzo? mi fa con l'arco ma da bellino è stato guarda eh boia oh che c'è? un ragnolo ma bocca io ho giro il arco invece ma aspetta un attimo forse c'è un bar se tu andava a diritto se c'era la funzione qui? no lì ma dio sghimbescio ma io voglio fare un bug qui vedi? che bug deve se io monto i sopra si più che altro ci monti madonna oh però c'è una stafina di quelle di sembra non devi ingravitare le statuine sembra anche il greco è passato questo unico non lo so più a nessuno se io ce l'ho no che non tu ce l'hai no beh l'agranto è l'assenza vado bello questo stampo bello più bello bello di qua di qua vero? si e ora? allora di di indietro di qui? qui? no qui ma lo fa apposta? eh meno male avrei sei dubbi sulla tua mentalità perché non ce l'hai un po'? si quando ti conosco no no andate queste cose mi sono cattiva quanto mi ha subito il naso alla pulita qui? ma perché devi spiegare le frecce? quasi 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 il quarzo devi spiegare tanto di figlio che sono femmine lesbie madonna puttana ma dov'è? chi? chi la sana? ma è di là ah chi ha trovato su magliashopping.it ma è di là ma è di là Grazie.